Pasticceria Charlotte in via Mure Ospedale 6 a Rovigo Telefono 0425 29073 oppure 333 34 94 100 Pasticceria Charlotte, dolci tradizioni salate che ti accompagnano in ogni momento della giornata Pasticceria Charlotte è anche dolci in confezione regalo Tutto per i vostri eventi dalla A alla Z In più vi invitiamo a provare la tradizione e la qualità delle nostre colombe pasquali Pasticceria Charlotte in via Mure Ospedale 6 a Rovigo Telefono 0425 29073 oppure 333 34 94 100 Pasticceria Charlotte, dolci tradizioni salate che ti accompagnano in ogni momento della giornata